Buona la prima per la Delfa e Savelino che al pala del Mauro nella prima giornata del campionato nazionale di Serie B supera 80-73 la Bess Fiorenzola. A sostegno del Biancoverdi un pubblico numeroso che ha sostenuto la squadra. Circa 800 i pacanti sulle tribune dell'impianto di contrata Zoccolari. La gara non è stata mai particolarmente in discussione. Top scorrere dell'incontro Vasal, autore di 22 punti. Bortolin è stato prezioso nel creare vantaggio dal post basso nel primo tempo nel mettere qualche pezza. La squadra di Lorenzo Dalmonte, fio di Luga, ha giocato una buona palla a canestro senza mai impenserire realmente i padroni di casa. Visibilmente soddisfatto nel post gara anche il tecnico Andrea Crocerol che ha fatto il punto in conferenza stampa. È stata una bella vittoria in casa. La prima del campionato era giusto vincere così. In questo modo comunque è difficile, però è un campionato che sappiamo tutti. È diventato di un livello più alto, quindi ci saranno veramente poche partite facili. Poi comunque un attimino un po' di tensione. La prima in casa, comunque con un grandissimo pubblico che c'era oggi. Però siamo riusciti a portarla a casa e gestire bene il finale. Sono giocatori che fino a un mese e mezzo fa non si erano mai visti in vita loro, quindi è difficile iniziare a giocare bene tutto. Quindi bisogna un attimino trovare il ritmo, giocando sempre più partite aiuterà anche questo. Poi riuscire a gestire comunque il gioco interno e quello esterno, dando la palla comunque a Bortolina e a Nicolic, però riuscire ad avere spazi liberi per i tiri da tre punti che più avanti, con un po' più di fiducia, andranno dentro con più continuità e ci aiuteranno a dare più spazio. Di umore opposto non poteva essere altrimenti il coach di Fiorenzola. Non mi è piaciuto l'atteggiamento, nel senso che abbiamo giocato una partita tecnicamente brutta. Non si è riusciti a fare per molti tratti della partita quello che avevamo deciso di fare, soprattutto a livello di ritmi della partita. Avevamo impostato una partita dove volevamo correre, quando l'abbiamo fatto abbiamo preso vantaggi, quando abbiamo iniziato a camminare e quindi andavamo agli ritmi di Avellino. Sono stati più bravi perché lo sono se camminiamo.